Temperature in costante aumento su tutta l'isola. La mia amica pensa che sia carino. Ciao, Don Nicola. Figura di merda. A breve, un nuovo diacono verrà. Voglio... parlo con Nicola. Don Nicola, è prete. C'è anche la domica Valentina che si è presa una cotta. Poi mica piace solo a lei. Io mi sto preoccupando per lei, sa? Le assicuro che Nicola è un ragazzo molto serio. Ma è vero che sa far prete? È normale che uno abbia dei momenti di tentazione. Guarda. Vorrei sapere dove si è andata la tua amica. Con Valentina non è. Cosa sai che mi ne frega di Valentina? Noi siamo degli strumenti imperfetti. E che faccio? È il prete con l'amante. Ma non è che niente niente ha combinato qualcosa pure tu. Te hanno mandato a confino, eh? Oh, sto scherzando. Faride.